3 3 4 superficie 5 superficie invio ok contro z e di nuovo facciamo unisci superficie superficie invio e questo è unico idem facciamo dall'altra parte uguale quindi prima superficie seconda terza superficie quarta superficie quinta superficie e questo invio perfetto e anche qui abbiamo creato le nostre depressione quindi andiamo poi in renderizzata eccole qua vedete ok direi che così va bene perfetto poi andiamo avanti quindi ombreggiata andiamo nel frontale andiamo a vederci facciamo un salva così abbiamo salvato ok questo l'abbiamo fatta non sto lì a fare le altre potremmo fare la stessa identica cosa andiamo avanti così almeno non perdiamo tempo ok e questi buchi qua io li farei in un secondo momento ok e io terrei terrei un attimino le cose fatte così io direi che va bene io direi di tenere le cose fatte così allora ci potrebbe essere va bene direi per non star lì a complicarci la vita e non far sì che questo video diventi lunghissimo fermiamoci qua ok facciamo un'altra cosa per andare avanti allora andiamo a fare un offset ok un offset superficie di questa superficie verso il basso ovviamente di distanza 1 potrebbe andare bene forse adesso vediamo se potrebbe andare bene ok si potrebbe anche facciamo contro z facciamo un'altra distanza facciamo proviamo due se ce lo tiene perché poi magari ci può creare dei problemi sotto invece no non ce li ha creati va benissimo ok quindi due va benissimo perfetto e adesso dobbiamo andare a smussarli quindi dovremmo smussarli in modo diverso quindi smussandolo molto di più verso il basso quindi andiamo a negli strumenti solidi facciamo un raccordo raggio variabile e qui mettiamo 1.5 invio cerchiamo su con catena bordi selezioniamo il bordo esterno invio 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 quindi abbiamo dato una bella smussata sotto ok mentre sopra facciamo di nuovo uno smussa invece di uno facciamo 0.2 invio con catena bordi selezioniamo sopra invio 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 io direi di tenerlo così va bene perfetto andiamo smussare questi vediamo facciamo facciamo un uno smuss sempre di 0.2 vediamo se può andare bene no così ho sbagliato però si contro z facciamo allora invio facciamo 0.4 l'unica cosa è che selezioniamo noi i bordi per se no ci seleziono anche quelli sotto e non mi va bene quindi selezioniamo questi bordi qui a mano vediamo un 0.4 si può andare bene e io direi perfetto io direi perfetto ok no però qui no no qui vedete che ci ha creato un problema qua c'è creato un problema qui quindi contro z 0.4 non va bene facciamo 0.3 invio 1 2 3 4 7 8 ok adesso sì che va bene ok se io guardo nella renderizzata vedete che adesso ci siamo magari ho fatto una depressione un po troppo esagerata però potete farla anche un po meno ok però diciamo che allora torniamo a ombreggiata di nuovo di nuovo raccordo raggio variabile e andiamo selezionare i nostri bordi punto superficie no non questo questo ok perfetto siamo attenti ai bordi che selezioniamo perché vedete che prima era un bordo sbagliato non questo ma questo qua va benissimo invio invio perfetto e anche qui ci siamo ok perfetto a questo punto non ci resta altro che andare a allora andiamo in prospettica e selezioniamo la nostra fotografia e andiamo a ruotarla di 90 gradi perfetto la blocchiamo andiamo nella vista superiore ok e sblocchiamo un attimino così lo portiamo un pochino qua vicino ok e dobbiamo andare a creare i buchi quindi per creare i buchi sono più o meno uno due tre quattro da una parte quattro all'altra più una roba così dovrebbe essere uno due tre quattro cinque sei sette otto in realtà quindi 44 ok quindi 44 vediamo e quindi a una vista superiore andiamo prendersi il cilindro e andiamo a partiamo da qua con i buchi io direi una cosa di questo tipo qua frontale ok questo il primo buco vediamo e poi andiamo a utilizzare coppia e togliamo gli snap e gli altri bucchi saranno qui 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 più o meno del genere anche se non è proprio identico bene lo stesso poi selezioniamo facciamo la coppia speculare sempre collegandoci al medio quadrante ecco qua perfetto e poi ne abbiamo altri 1 2 3 6 interni quindi 6 interni ne prendiamo 1 facciamo anche qui una copia quindi togliamo questo 6 interni vuol dire che sono più o meno partendo da questo anzi facciamo una cosa scusate facciamo una copia così da qua partendo dal centro 1 2 3 ok e anche qua facciamo una copia speculare 1 2 3 attiviamo gli snap copia speculare perfetto ok benissimo anche se non sarà identico bene lo stesso è importante aver capito il concetto e poi facciamo una una differenza booleana tra questo invio e tutti questi invio ok e abbiamo bucato perfetto e vediamo non è finito qui perché ovviamente dobbiamo andare a smussare tutti questi bordi qui vediamo lo smusso vediamo strumenti solidi raccordo raggio variabile e 0 3 non so se può andare bene provi a facciamo una prova teniamo 0.8 io direi che va bene invio invio perfetto abbiamo smussato tutti i nostri buchi quindi facciamo un bel salva standard salva benissimo adesso dobbiamo andare a fare le cose un po più semplici quindi diciamo il nostro supporto per poterci poi sedere ovviamente che è questo qua e questo qui possiamo realizzarlo con un rettangolo vertice vertice secondo me e quindi partendo da da qui ok e andando più o meno più o meno vediamo è una roba di quel tipo qua più o meno così direi una cosa così selezioniamo attiviamo i punti controllo e questo punto di controllo lo portiamo sarà una roba del genere prima roba così io credo una cosa del genere poi tiriamo fuori il raccordo field curve qui è 100 forse è tanto però proviamo ma no neanche tanto quindi io direi forse non di meno dai 100 no facciamo 50 invio sì io direi che va bene 50 ok poi selezioniamo facciamo un esplodi 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 perché questo non ci serve e questo non ci serve perfetto e poi andiamo a fare un unisci 1 2 3 invio e poi da qui facciamo un offset quindi offset invio e come offset io direi di fare distanza 4 no facciamo 10 distanza 10 facciamo 13 probabilmente 13 potrebbe andare bene una cosa di quel tipo qua che poi forse ancora più inclinato forse ancora più inclinato forse ancora più inclinato però vediamo attiviamo i punti controllo e questi tiriamo pochino di più e poi questo qui non va bene perché deve essere ecco io direi una cosa cosiddetto di nuovo offset offset invio siamo interno ok allora la seduta la seduta la spegniamo quindi via questi li portiamo supporto ciaio cambiaggetti livello questo lo spegniamo la seduta la spegniamo perfetto e poi questo lo portiamo a livello quindi smart track attiviamo i punti controllo selezioniamo questo con attivo fine ce lo portiamo qui e se lo riportiamo eccolo qua ok e poi chiudiamo chiudiamo con un altro segmento togliamo smart track romper 1 2 perfetto e poi non facciamo altro che fare un unisci selezioniamo 1 2 3 4 e abbiamo unito ok poi vista di destra ovviamente riattiviamo la seduta questo dovrà essere più o meno una roba di questo tipo qua facciamo un estrudi quindi estrudi curva invio e estrudiamo la nostra ok quindi la curva lo mettiamo nella curva così non ci disturba più e questo invece dovrà essere messo al centro con questo quindi possiamo fare una linea ok conoscete la linea no si bene allora linea che lo troviamo vediamo dovrebbe essere in questo questo pannello se non sbaglio no allora facciamo così facciamo allinea allinea ok allinea oggetti da lineare 1 2 invio centri verticale centri verticale eccolo qua perfetto e l'abbiamo allineato perfettamente ok l'unica cosa che abbiamo fatto troppo spesso secondo me troppo spesso sta male quindi questo non va bene riattiviamo le curve andiamo nel frontale e questo lo esplodiamo perché non va bene troppo troppo ok quindi facciamo che selezioniamo tutto facciamo un ishi e un offset offset era qui trecino troppo 10 invio 8 8 8 va bene 8 perfetto e di nuovo 12 scusate ma sono un po pignolo per questa cosa qui di questo lo guardate selezioniamo tutti questi facciamo un tronca e tronchiamo quello che non ci serve perfetto e poi andiamo a questo cosa fa qua non dirmi che ho va bene dopo lo risolviamo dopo allora dicevo che facciamo un 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 ishi di tutto ok destro il mouse vediamo se lo questo qui è control z questo qui è stato staccato non so perché lo vediamo se riusciamo a collegarlo lo unisci questo vabbè poco male allora ok allora le facciamo un'estrusione di questo quindi vista di destra quindi estrudi estrudi curva invio e andiamo a estrudere in questo modo qua ecco qua perfetto le curve le spegniamo tutte vediamo se sono delle curve in giro che andiamo a portarle nel livello curve così non ci estruva più ok e adesso io direi che mettiamo il primo piano però non è largo abbastanza quindi andiamo nella vista di destra dovrebbe essere più largo quindi facciamo questo che scala 1d ci colleghiamo al medio e andiamo ad allargarlo di più tipo una roba così ok ok adesso direi che ci siamo perfetto perfetto poi smussiamo un attimino quindi supporto la seduta la spegniamo momentalmente questo dovrebbe andare nel supporto di acciare cambio oggetti livello ok che lo facciamo grigio un grigino tipo così perfetto e andiamo a smussarlo appena 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 quindi strumenti solidi strumenti solidi e 08 tanto 0.4 selezioniamo tutto invio invio vediamo 0.4 potrebbe andare bene perfetto e andiamo a riattivare e attivare la seduta ecco in questo modo qua ok che poi secondo me potrebbe essere avanti allargato un pochino di più tipo così meglio ok perfetto adesso dobbiamo andare a costruire invece questo qua questo ok che ha come sezioni tipo dei cerchi da una parte e dall'altra ok E questo qui direi che possiamo andare a costruirlo, aspettate un attimo qui, non vedo tanto quest'altro che adesso lo vedo, perfetto, dobbiamo costruirlo tramite delle curve anche qui, ok, quindi delle curve, facciamo doppio clic sulla curva, anzi qui, ok, doppio clic sulla curva, prendiamo un cerchio, vediamo medio, ecco, ok, e andiamo a mettere, a creare il nostro cerchio, vediamo adesso, adesso vado un po' occhio così, non state lì a tirarmele dietro per questa cosa qui, ma, ok, allora, più o meno dovrà essere largo come la seduta, una roba del genere, andiamo nel frontale e se non sbaglio è leggermente, leggermente schiacciato, quindi facciamo snap centro, scala 1D, mi aggancio al centro, lo schiaccio appena appena, tipo una roba del genere, andiamo nel superiore e anche questo qui, facciamo medio, medio quadrante e facciamo una copia speculare anche di questo, copia speculare, vediamo, ok, dall'altra parte, perfetto, e poi col quadrante attivo andiamo a crearci, io direi anche con un arco, ci agganciamo, ci agganciamo e ci creiamo un arco di questo tipo qua, e poi questo, sempre una copia speculare, vediamo, quadrante, copia speculare, vediamo se può andare bene, selezioniamo questi, li mettiamo come punti, ok, tipo una roba del genere potrebbe andare bene, e facciamo anche qui un superdo binario, primo binario, secondo binario e curve di sezione, invio, invio, ok, e direi che va bene, basta che noi lo chiudiamo, quindi andiamo su strumenti solidi, chiudi fuori piani, selezioniamo e chiudiamo fuori piani, e adesso andiamo a smussare, quindi strumenti soldi, fillet curve, cioè raggio variabile 040.8, vediamo se può andare bene, z, invio, 1.1, perfetto, invio, perfetto, e poi dobbiamo fare un'altra cosa adesso, andiamo nel frontale, ci prendiamo un parallelepipedo, e andiamo a crearci un parallelepipedo, bello lungo, in questo modo qua, prospettica, e facciamo una differenza booleana tra questo invio e questo, forse un po' di più, ok, quindi questo lo abbassiamo un pochino di più, differenza booleana, perché sopra ho visto che, che, come si dice, è un po' smussato mi sembra, allora, da questo mi togli questo, ok, vediamo se riesco a smussare anche questo qua, con strumenti soldi, smussa, allora, aspettate un attimo, è perché questo, che dovrebbe essere il legno, cambio oggetti di livello, e qui dovrebbe essere marrone, ok, facciamo uno smussa, smussa, seleziono invio, invio, vediamo, ha smussato, di poco, ctrl z, vediamo se riesco a smussare di 3, smussa, invio, invio, vediamo un attimino, eh, renderizzata, sì, perfetto, dai, va bene così, ok, va bene così, io direi di tenerlo così, che va benissimo, allora, le curve, allora, adesso le spegniamo, selezioniamo se ci sono curve in giro, no, non c'è un curve in giro, ok, io direi che abbiamo finito, adesso non è proprio di rimanere questo qui un pochino più stretto, lungo, quindi, eh, sì, direi che possiamo andare ad allungarlo di più, ok, quindi, tipo così, e magari impicciolino un pochino più, forse così, e così, e questo lo portiamo, vediamo, perfetto, io direi perfetto, facciamo un salva, ok, perfetto, poi questo qui, uno, quindi la polisuperficie, che poi possiamo fare un'altra cosa, facciamo un'altra cosa, aspetta, prima di chiudere il video, voglio fare un'altra cosa, vediamo se, se è carina per voi, allora, selezioniamo questo, facciamo un control C, ok, e poi andiamo a fare una differenza, no, un taglio, tronca, un tronca, se sono gli oggetti di taglio, questo, invio, l'oggetto troncare, questo, no, scusate, l'oggetto troncare, questo, ok, esca, ok, allora, se questo io lo spengo, vedete che è stato troncato, in questo modo qui, ovviamente, qui bisognerebbe andare poi adesso a chiuderlo, e con una superficie, però, col patch probabilmente, se non riesce il patch, siamo rovinati, quindi patch, selezioniamo, selezioniamo le curve da chiudere col patch, tutte le curve, tutte le curve, vediamo, ok, no, non è prima, ok, perfetto, e poi facciamo un unisci, questa con questa, invio, perfetto, 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 adesso il mouse, ok, e questa qui, se no l'altra, andiamo a affrontare, e questo e questo, possiamo tirarli verso il basso, un attimo, proprio appena appena, che non si vedano sotto, eccolo qua, perfetto, salva, benissimo, ok, e abbiamo finito la nostra modellazione, e spegniamo le foto, eccolo qui, e abbiamo il nostro sgabello, modellato, quasi perfettamente, non dico che perfetto, però sicuramente, è un buon risultato, potete anche migliorarlo, sicuramente, perché avete, magari anche capacità migliori, delle mie, e potete andare a creare un modello, anche più, più personalizzato, più dettagliato, eccetera, eccetera, però, sicuramente, il concetto di costruzione, è quello più importante, per arrivare allo risultato, diciamo, quasi ottimale, ok, vi ringrazio di avermi seguito, mettete un bel like al canale, fatemi domande che volete, e ci vediamo nei prossimi video, e un saluto a tutti, e un saluto a tutti.